Lo ZODI 105 presenta Faccia a faccia Ehi, anche oggi abbiamo cambiato formazione guida unita, oggi facciamo il faccia a faccia Infatti abbiamo chiamato due romani, li abbiamo messi in contatto e poi... Pronto, dipende voi chi siete? No, chi sei te? Perché io fino a provo contrario ricevo la telefonata da te Chi è? E io ti rispondo, ma tu hai rotto però, perché sei pure stronzo, non mi dici niente chi sei, che non sei Allora tu sei frocio? Eh? Allora tu sei frocio? Caspita se sono frocio, ovvia Eh, perché oggi siamo mosci Eh, vabbè, se sei moscio te io ce l'ho sempre duro No, il c***o è dritto No, è il mio Ammazza, io sembro un gorilla Ah, non lo so, oh, via qua, così ci proviamo, dai Ammazza Tanto non c'ho niente da fare, so solo a casa, oh Allora tu sei frocio? So frocio, come te lo devo dire? Eh no, io no, a me piace solo la sorca Eh, oh, e allora che cazzarola mi viene a telefonarmi? Telefona a quella che te la dà, eh? Allora tu sei frocio? Ti sto dicendo, so frocio Allora gli diciamo una cosa carina? Una cosa carina? Una cosa più diretta, fammi pensare Una cosa più diretta, solamente l'uccello mio Viva la f***a Viva la f***a, vabbè, viva la f***a Allora tu sei frocio? Te l'ho detto che so frocio Allora tu sei frocio? Eh, te lo sto a dire Viva la f***a Viva la f***a, vedi come dici lui Che te l'ho detto? Allora tu sei frocio? Eh, oh, mi hai rotto il cazzo, lo sai? Allora tu sei frocio? Sto dicendo, so frocio Lo Zodi 105 vi ha presentato Faccia a faccia